Isola dei famosi 2019 Il prossimo 24 gennaio, dunque si sposta del giorno passando da lunedì al giovedì, da sciogliere la riserva sui protagonisti in studio visto che si amara venia sia Daniele Possari sono impegnati in altri programmi, tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Alba Parecchi e Valeria Marino, attualmente in tv con uomini e donne con la pubblicità di Acqua e Sapore, il castro. Non è stato ancora ufficializzato, ma il blogger Andrea Pino, Fariba Piarani e Orta per essere un'altra persona La madre di Giulio Salemi e la trecce Grecia Colminare sembrava già avere in posca il biglietto per volare o il piacere, inizia anche il giornalista Paolo Brasi, la trecce Marina Scuola, il cantante Riccardo Collier, l'ex calciatore Marco Del Vecchio, tra coloro che avrebbero detto no, e mia ex madre, Jeremia Spodriguez e Giulia Delema, Marina Larasa e invece l'ex calciatore Grazie a tutti!